no 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 stanno a casca progetti cascano troppi progetti niente jimmy me se portato o tutti contro mister non mi non mi divino un mio modo dare e legge prende me no legge me dispiace mo te prendi tu capocciate te direte frullo eh guarda legge che è diventato il god finale come guarda 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 oggi si è frullato no legge no no legge no l'ami copisci copisci e ci dobbiamo prendere mister regala mi strasta un pattuto linguino di merda vieni qui caschi con me non me ne prega un cazzo caschi con me la mossa di uomo angelico il supremo ma come si salgono a scala è difficilissimo a casco casco è il senso cascato frug splash tattica dello shinobi la via dello shinobi guarda eppure legge l'ha usata frate io faccio la chiusa la chiusa il cappello per esempio il cappello che è stata è incredibile balotelli balotelli me la posso portare a casa me la posso portare a casa no regato rega dovete qualizzarvi contro già me la posso portare a casa non ci viene non c'è ammazza che pussio 10 via sulle scale se se vieni sulle scale legge corsi e invece no il bait pimp quando sta vicino qui ecco no 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 dai ma porca troia dai ok ok poi rega c'è un giorno resistito fino alla fine rega no cg legge buona buona no uomo angelico qui deve che frulla miste vieni qui volevo l'uno di uno che volevo le mostre di uomo angelico meravigli bravo 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 tangi non siete direttati fortissimi dal nulla fra fra il tetto qua è proprio di tecnica ma io non c'è no 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 e anzi guarda 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 prima era tutta una massa se molti scappavo ben io guarda tangi che sta fa no regalata mi contano da legge no no rega vi prego vi prego bravo 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 voglio ho bisogno di mister in questo momento prendi mister no 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 sei stupanino dammi da misto panino che ora ho qui adesso vediamo il cappello mio no leggeva preso le sposa con l'aviravir aviravi no regalo me lascia più è incredibile guarda che non ci ti prego ti pago facebook quanto uno facebook tanci tanci mi ha preso mi ha preso per un ala mi fai male mi fai male lasciami no rega io mi devo liberare te prende legge non te non ti lascia più è incredibile è certo e mo cascate tutti sono cascato io mo cascata legge legge la devi carriata legge la devi carriata legge la devi carriata 30 secondi che porti 30 30 secondi devi resiste leccio fai leccio fai leccio porta da casa sto no legge o no no era come doveva finire era come doveva finire questo spettacolare ne voglio fare almeno un altro palo telli si facciamo assolutamente un'altra oli moli e no regalata tutta l'estrima vai aspetta al sol game al sol game oggi aspetta che ora era aspetta le 20 e 45 ma arriva messaggio da gianmarco tu quaga tan blur su twitch un attimo bro ti dico solo una cosa boom hai visto 20 euro mai voluti se oggi te non mi accetti almeno tre scambi che vanno a mio favore su monopoli te te rovino zio cioè sto costretto a finire la tua vita bro ti dico solo se devo completare verdi boom ti si offre tipo una stazione per due verdi che sai tu perché io ce n'ho solo una boh che devi accettata me devi di ok devi anzi ok cavolo padrone è questo ragazzi è gianmarco tocco quindi allora iniziamo dal presupposto che tutti quanti gufferanno per lui dopo questo audio complimenti toccopoli 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 brava fai nove qui fa i 7 eccolo ok cazzo che ha fatto imprevisti per lo stagione che c'è faccio vaga 50 a tutti vediamo se la fortuna è dalla tua parte fai ragazzi cazzo teggi una tassata questa regala cazzo che guffata che guffata se andava sulla tassa gli è partito gli sono partiti 2 e 5 anzi ti devo fare la sfera di cristallo tu kri studiatela un attimo il fazzone te gliela la rossa lui te da l'arancione e la fucsia no non ti do l'arancione non gli do l'arancione gli do la fucsia la blu e la stazione e quindi ti vuoi tenere pure no eh certo è che so scemo ma è che mi chiamo k frenesi allora non posso utilizzare brutte parole ma si voglio che la partita finisca entro mezz'ora perché voglio andare a arrancare e non che la partita finisca alle 4 di mattina perché sono l'unico con le case è l'unico che può costruire accelero il gioco e gli regalo le case così che la partita finisca rapidamente ora vuoi che ti faccio il disegnino o te lo devo rispiegare? ah no sei morto ah no non è. ah no era 11 no 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 era 11 è già girato all'ultimo momento ma riga era 11 no hai fatto doppia alla fine ha girato eh mo la siglazione di 100 è bello grazie era 11 ha girato il dato è diventato 10 senza un motivo vabbè vabbè no ma è tipo no dai azzilatratissima ciao urlaton che furto clamoroso bisogna schippare il k adesso esci subito vai in mezzo guarda che buco guarda che buco 5 sabre regalati boh 2,50 ma vaffanculo ho tutto il rispetto no ragazzi no ragazzi ma di nuovo quante volte è andato in prigione ma io che cosa ti devo dire cosa ti devo dire no non vale cosa ti devo dire può essere potrei fare il regalo di compleanno a Gianmarco Tocco in anticipo sì Marzò c'è il regalo di compleanno ma vabbè altri soldi al capo potrei fare più di applicazione hai ragione Marzò forse so Sarbon no 22 22 no non c'è non c'è i manco 22 è già brutto eh mori con 22 è una sentenza fran brutto mori con 22 è una sentenza di vita arriverà arriverà Dario grazie di tre è 22 te lo sei tankato bene sto allagando potrei bene sto allagando Marzò Marzò non ti sento ragazzi che funziona più il gioco che è successo ma hai crashato il maestro no non ci credo no vabbè a monte rega vabbè quanto te danno Jimmy posto fisso per capitano Jimmy preparazione all'avvio yes il limite è finché non muoio il record mondiale 14 in un giorno si era liofilizzato magari è il tubo esatto lo conosci ah è il tubo è il tubo è il tubo è che non lo sai aspetta tento eh no si che non ci sta a mettere il gatto dentro è un tubo si ce giocherai pure io la dentro guarda guarda metti testa sanone ma e ci sta la pallina è tipo la cosa del buco di fortnite ci sta pure la pallina ma gioca con la pallina stick it out